Ancora da accertare alle generalità dei due cittadini del Mali morti la scorsa notte nell'incendio scoppiato all'interno del Gran Ghetto, la baraccopoli che si trova nelle campagne tra Sansevero, Foggia e Rignano Garganico e che due giorni fa era stata parzialmente sgomberata dalle forze dell'ordine nell'amido di un'indagine alla direzione distrettuale antimafia di Bari. Il Ghetto sotto sequestro era controllato da alcune pattuglie delle forze dell'ordine ma controllare oltre 5.000 metri quadrati è impossibile e dunque nella notte un centinaio di migranti sono riusciti ad entrare nuovamente. Intorno al 1.30 è scoppiato l'incendio a cui sono seguite alcune esplosioni molto probabilmente causate dalle numerose bombole presenti nel Ghetto. Immediatamente è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco presente in zona e poi sono giunte dal comando provinciale altre due squadre che hanno lavorato non senza difficoltà a spegnere l'incendio propagatosi con estrema facilità. Le baracche che sono state distrutte dalle fiamme sono realizzate con cartone, legno, plastica e altro materiale di fortuna. Inoltre il vento forte ha alimentato l'incendio. Subito dopo gli investigatori hanno controllato tutte le baracche o quel che ne rimaneva trovando due corpi carbonizzati. Secondo alcune informazioni fornite da altri migranti le vittime sarebbero appunto due cittadini del male di circa 30 anni. Al momento gli investigatori non si sbilanciano sulle cause non escludendo alcune ipotesi tra cui anche quella di un incendio doloso.